Ciao, lunedì 31 gennaio è la festa di San Giovanni Bosco. Anche quest'anno purtroppo non possiamo viverla bene come eravamo abituati a festeggiare, però sarebbe un peccato perdere questa occasione. E allora due proposte per vivere bene la festa di San Giovanni Bosco. La prima, ogni giorno dal lunedì al sabato di questa settimana arriveranno nei vari gruppi di Whatsapp e sui social della parrocchia delle piccole schede per pregare insieme. Prendete 5 minuti per pregare insieme in famiglia. Saremo accompagnati da alcune parole e da alcuni testi di San Giovanni Bosco. La seconda proposta è un piccolo audiolibro per conoscere e approfondire un po' la vita e la storia di San Giovanni Bosco. Lo troverete anche questo sui vari social della parrocchia, scaricatelo e ascoltatelo, magari in famiglia, per conoscere un po' di più questa vita straordinaria che è quella di Don Bosco e magari vi viene la voglia e la curiosità di approfondirla. Allora buona festa in San Giovanni Bosco, viva l'oratorio e buona settimana a tutti!